benvenuti dal vostro anaro sensei in perenne modalità raffreddore perché finché non arriva l'estate è impossibile mi vada via tra caldo freddo pioggia sole il disastro comunque questo vale penso un po per tutti comunque fatemi sapere sotto nei commenti come state se ci sono news e novità a livello informatico o anche lavorativo personale illuminatevi fatemi sapere un po come vi gira la vita detto questo di che cosa parliamo oggi ovviamente siamo qui per parlare di il mio amato sponsor ovvero casefan.com ma mi raccomando se windows lo volete abbandonare non dovete fare altro che andare sul mio secondo canale youtube l'informatica per tutti sempre tutti i link in descrizione sotto trovate tutto per poter scoprire un sacco di sistemi operativi assurdi ovviamente tutte distribuzioni distro basate sul kernel linux ne ho fatti davvero un bel po e ne voglio portare uno ogni sabato quindi attivate la campanella per non perderli e ovviamente tutti quanti i miei corsi di informatica che anche questo sto cercando di portare avanti in modo da riempire più che posso un bel corso fatto bene per windows per linux mint mangiare eccetera eccetera chissà che venga fuori una cosa fatta bene mi raccomando iscrivetevi perché siete in pochi rispetto ai miei ormai 15.000 iscritti nel canale principale qua ne ho solo 3.700 per carità vanno benissimo vi adoro vi amo soprattutto quando guardate tutti quanti i miei video perché l'informatica ormai è un punto fondamentale e deve essere per forza conoscenza a base di tutti ovviamente sempre in descrizione trovate anche il mio instagram il mio telegram e tutti quanti i miei social bene detto questo iniziamo subito anche questo mese casefun.com ci porta un sacco di software davvero in super sconto come ogni volta i miei codici promozionali sono as50 per tutto quello che riguarda windows perciò se volete acquistare una qualsiasi licenza di windows dovete usare as50 mentre per tutte quante le licenze di office c'è il 62 per cento di sconto con as62 inoltre trovate anche dei fantastici bundle ovvero delle accoppiate perfette tra windows e office per poter risparmiare ancora di più ancora più soldini e si utilizza sempre il codice as62 qui è tutto quanto spiegato perfettamente sempre link in descrizione un po più sotto su view more trovate anche un sacco di altri software che sicuramente possono essere di ottimo contenuto detto questo come si fa per usufruire di questi fantastici codici? beh 9 dollari e 66 per windows 10 direi che è praticamente regalato e non ha il minimo senso andare in cerca di crack di attivatori rischiare di portarsi a casa malware di ogni tipo di farsi spiare di avere dei software delle app che partono all'avvio ogni volta che accendiamo il nostro computer solo per risparmiare che cosa 10 euro è ridicolo non non ha più senso perciò andate tranquillamente ve lo comprate e grazie alla licenza di windows 10 vi potete fare anche il passaggio all'11 quindi invece di spendere 15 dollari circa 15 euro per la licenza di windows 11 professional vi prendete questa qua da 10 e dopo fate il passaggio tanto si memorizza sulla scheda madre e quindi anche dopo aver formattato vi rimarrà ipoteticamente per sempre ora come si fa ad accappararsi queste bellissime licenze? chiaro che bisogna cliccare il link sotto in descrizione andiamo sulla pagina principale di casefun regolate tranquillamente sia gli euro sia la lingua che fortunatamente è in italiano al contrario della stragrande maggioranza di qualsiasi software o licenza che viene venduta mettendo italiano si passa automaticamente anche a euro quindi siete più che a posto prendiamo per esempio la versione di windows 10 professional che costerebbe 168 euro a listino viene venduta super scontata 17,56 euro ma la potete comunque ancora scontare come con il mio codice si va ad aggiungere al carrello andiamo a vedere il carrello ovviamente dopo aver compilato tutti quanti i nostri account comunque sia potete farlo per anche mantenere tutto lo storico andiamo qui su applica sconto ed essendo una versione di windows devo applicare un bel as50 eccolo qua applica sconto e magicamente da 17,56 euro togliamo 8,78 un bel 50% e ci va a costare 8,78 euro cioè neanche 10 euro 8,78 euro è ridicolo come prezzo cioè ditemi è davvero ridicolo questo è un super sconto stessa cosa vale per tutto quanto il resto quindi non dovete fare altro che scegliere la promozione corretta altrimenti guardate basta premere qua su rimuovere e torna il carrello vuoto di promozioni oltre a windows appunto una cosa che potrei consigliare è prendervi non so windows 10 in bundle quindi in accoppiata con un office anche l'office 2019 va più che bene ok perché veramente questo qua è comunque un ottimo office in realtà anche office 2016 non ha nulla da invidiare però se si può avere già l'office 2019 visto che comunque ci sono delle nuove versioni che sono uscite è comunque tanta tanta roba bene penso di avervi detto tutto quello che serviva di dire come sempre vi ringrazio per guardare i miei video per utilizzare i miei codici sconto e per tutto il supporto che mi state dando perché siete davvero fantastici i commenti e i like sono il primo metodo di pagamento gratuito che potete fare per supportarmi quindi like pollice in su è un bel commentino così youtube vede che il canale è attivo ed è felice e mi fa fare un sacco di visualizzazioni e più visualizzazioni faccio più vi porto video perciò mi raccomando non dimenticatevi mai di fare commento e like se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete sotto nei commenti la parola driver così saprò che siete stati bravi e gentili e vi ringrazio tantissimo grazie ancora di tutto fatevi bravi e ad una prossima puntata bye bye